Questo regolamento edilizio che è stato approvato alla unanimità. Sì, un aspetto importante, una proposta libera di origine consigliare proposta dal nostro gruppo, dal gruppo del Partito Democratico, è stata approvata in unanimità. Questo testimonia anche la bontà del contenuto di questa proposta e dimostra anche il fatto che la politica, al di là delle giuste differenze, si debba ritrovare quando si trattano argomenti che riguardano la risoluzione dei problemi dei cittadini. Una delibera che consentirà a circa 1.200 fabbricati del Comune di Arezzo di avere delle procedure molto piacevolate, sia dal punto di vista dell'applicazione e della richiesta del bonus del 110, ma anche nel caso in cui ci siano compravenditi degli immobili. Pensiamo che appunto questo contenuto di questa delibera sia davvero importante per ridare un po' di sviluppo a un settore che è il settore trainante dell'economia, che è quello dell'edilizia. Ecco, una decisione che era attesa da tanti cittadini. Sì, credo di sì. Credo che abbiamo fatto un lavoro che va a aiutare molto sia i cittadini, i professionisti e speriamo anche l'economia dell'intera città, perché questa delibera che è stata votata all'unanimità ieri darà uno slancio a tutte quelle che sono le problematiche che c'erano fino a questo momento, di reperire documentazione in archivio, di riuscire a sanare degli immobili, a volte anche complicato, riuscire a sanarli e ottenere i bonus previsti dal decreto rilancio. Con questa delibera tutti quei fabbricati che si trovano all'esterno della nuova perimetrazione che abbiamo proposto come gruppo consigliare PD, i professionisti semplicemente dovranno certificare lo stato di fatto del fabbricato, realizzato ovviamente prima del 1967, e procedere con la richiesta dei bonus. Quindi ristrutturazioni vuol dire economia per la città.